Signori buongiorno, stamattina si apre con la Genovese, finalmente torna eccola ci sono ancora una decina di paschette libere, chi vuole può prenotarla adesso eccoci al nostro spicchio velocissimo, dal fegato fresco, gli impanati, le corolette di vitellino i bocconcini sempre di vitellino, le salsicce farcite, la fracosta, la genovese, gli arrosticini, la cinta senese questa va benissimo anche al forno, l'insalata di pollo dietetica, gli hamburger, il polpettone la tagliata con sottone e sottaceti, la fracosta di maiale e la tagliata di pollo con legume e cereali poi passiamo al pollo, una buona giornata, a domani! Grazie!